Sorprende che in Bibbia esistano undici volte questi maledetti chi. Sono presenti in Bibbia il Pensateuco, immaginato come un libro unico, quindi 1.180, ossia il capitolo numero 180 mettendo in fila tutti i capitoli del Pensateuco. Allora il Pensateuco è 1.180. Ebbene intanto risulta che nel 3000 d.C. sommato a quel 118 che è 1.18 in quantità assoluta 100 abbiamo la previsione descritta in Bibbia della fine di questo mondo. Nella inversione della polarità terrestre che costringerà il pianeta a ribaltarsi perché nello stesso tempo la polarità solare non si è ribaltata e quindi la Terra è costretta in un giorno solo a ruotare il suo asse e tutto il suo corpo. Bastano le prime 21 lettere della Bibbia a configurare questo 3.118. 21 è tutto il lavoro, tutta l'opera di Dio in sette unità, che è totale quando quelle sette unità si esprimono a dimensione tripla del trino, proprio come i tre lati sette esistenti in un sistema rappresentativo con i tre assi cartesiani. Ebbene le prime 21 lettere di Bibbia in principio hanno un valore numerico una per una e portano a questa somma che è il 3.118 d.C. concludendo tutta l'avventura umana in questa che è l'ultima generazione che comincia proprio con l'avvento divino di Gesù Cristo. Leggiamo direttamente questo capitolo numero 180 che è il capitolo in cui nel libro di Bibbia è configurata una serie di undici maledizioni. Occupiamoci di questo capitolo che corrisponde al Deuteronomio, capitolo 27. Intanto in alto vedete la serie divina che comincia con il 18 che è in segno di croce e la croce presente nel nome Aton come Eition, uno sulla croce. Quando a questo uno sulla croce gli si aggiunge la Trinità di Dio data da 30 il valore numerico assume al 48 corrispondente al termine Gesù. Quando in questa sezione aurea aggiungiamo al 48 il 18 della croce e poniamo Gesù in croce otteniamo il 66 che è il nome romano proprio indicato in Genesi 25 quando venne descritto ciò che è chiamato sezione aurea quando il Signore disse in te ci sono due popoli il maggiore si imporrà sul minore ma lo servirà. Questa è proprio la legge che regola la sezione aurea. Abbiamo sempre che da due si determina un altro come la loro somma e poi dagli ultimi due un altro come la loro somma e così via. E allora abbiamo che il 18 più 30 diventa 48 che più 18 diventa 66 che più 48 diventa 114 che più 66 diventa 180 e tutto il ciclo 18 arriva a compimento perché arriva al ciclo 10 e questa serie divina si conclude. Ora vediamo un po' cos'è il contenuto di questo capitolo numero 180 considerata un libro unico e non distinta quindi nella Genesi che ha 50 capitoli poi ne ha 40 nel libro numero 2 ne ha 27 nel terzo ne ha 36 nel quarto e ne ha 34 nel quinto per totali 187 e abbiamo questo 187 proprio come il 18 per 10 più 7 di pura creazione. Vediamo qual è il testo. Mosè e gli anziani di Israele diedero quest'ordine al popolo osservate tutti i comandi che oggi vi do. Quando avrete passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vostro Dio sta per darvi ergerai grandi pietre e le intonacherai di calce. Scriverai su di esse tutte le parole di questa legge quando avrai passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti paese dove scorre latte e miele come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Quando dunque avrete passato il Giordano ergerete sul mondo ebbaf queste pietre che oggi vi comando e le intonacherete di calce. Là costruirai anche un altare al Signore tuo Dio un altare di pietre non toccate da strumento di ferro. Costruirai l'altare del Signore tuo Dio con pietre intatte e sopra vi offrirai olocausti al Signore tuo Dio. Perché queste pietre, queste pietre, queste pietre? Perché il nome Pietro comprende proprio tutto il nome di chi vi parla che in romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo è proprio nelle tre parole che cominciano per consonante rpt ma quando romano la r come vuole il Signore finisce in fondo rpt diventa ptr e se r è ro diventa ptrò ptrò manca rispetto a Pietro solo della ie di Iesus ecco l'insistenza di queste pietre non toccate dal ferro offrirai sacrifici di comunione e la mangerai e ti gioirai davanti al Signore tuo Dio scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge con scrittura ben chiara ecco è questo pietro che vi evidenzia oggi questa legge Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele fa silenzio e ascolta Israele oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio obbedirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi ti do in quello stesso giorno Mosè diede quest'ordine al popolo quando avrete passato il Giordano ecco quelli che staranno sul monte Ganzim per benedire il popolo Simeone Levi Giuda Issacar Giuseppe e Beniamino ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione Ruben Gad Aser Zabulon Dan e Netal ma trascendiamo quello che io ho evidenziato per un momento andiamo avanti a leggere i leviti i leviti prenderanno la parola e diranno ad alta voce a tutti gli israeliti 15 maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di medallo fuso abominio per il Signore lavoro di mano d'artefice e la pone in luogo occulto tutto il popolo risponderà e dirà Amen 16 maledetto chi maltratta il padre e la madre tutto il popolo dirà Amen 17 maledetto chi sposta i confini del suo prossimo tutto il popolo dirà Amen 18 maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco tutto il popolo dirà Amen maledetto chi lede il diritto del forestiero dell'orfano e della vedova tutto il popolo dirà Amen maledetto chi si unisce con la moglie del padre perché solleva il lembo del mantello del padre tutto il popolo dirà Amen maledetto chi si unisce con qualsiasi bestia tutto il popolo dirà Amen maledetto chi si unisce con la propria sorella figlia di suo padre o figlia di sua madre tutto il popolo dirà Amen 23 maledetto chi si unisce con la suocera tutto il popolo dirà Amen 24 maledetto chi uccide il suo prossimo in segreto tutto il popolo dirà Amen 25 maledetto chi accetta un regalo per condannare per condannare a morte un innocente tutto il popolo dirà Amen 26 e con 26 si conclude tutto ma 26 è il numero di Dio 26 maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge per metterla in pratica tutto il popolo dirà Amen e ora vediamo un po' che cosa c'è da osservare leggiamo il primo riguardo di fianco questo rosso maledetto è scritto 11 volte in cui la somma di 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 volte quelle di questa maledizione uguale 66 che è il nome romano che è uno di quei nomi che il Signore diede come notizia a Rachele quando le disse in te ci sono due popoli il maggiore e il minore il minore Giacobbe è Israele l'altro popolo maggiore è il popolo romano ed ecco qui il nome romano è dato da questi 11 che sono volta per volta maledetti il maledetto è romano nel mentre sommando il numero dei versetti in cui compare questo maledetto ossia il 15 il 16 il 17 il 18 il 19 il 20 il 21 il 22 il 23 il 24 il 25 e il 26 abbiamo che il numero delle unità sono 246 quelle che in assoluto ossia sommate alla unità che rende unitario il 246 porta al 247 ebbene mentre il 66 è romano il 247 è il piano assoluto allati 100 e 100 del 47 uguale a modeo ma è anche dio uguale 26 più romano antonio anna paolo ossia i primi quattro nomi che nella loro somma sono 221 tanto che 221 ossia romano antonio anna paolo più 26 dio uguale 247 quindi il maledetto in questione è romano antonio anna paolo ora leggiamo che cosa ho scritto sotto 11 amen ci sono amen trascende dando retta alla solita operazione di prendere chi è ultimo e metterlo in cima trascende il name il nome di dio che parte dalla ation aton il dio unitario che di quella t fa addirittura il simbolo quando sulla t si mette il disco del sole e si traduce nella stessa lingua inglese del name di dio aton il 48 è il nome e il name di gesù il 66 è il name di romano che nei 313 ossia in un 113 1 come 114 e trino come i 313 dati da romano amodeo che vale 113 torquato quinto nome che vale 113 e l'acronimo dualistico di romano antonio anna paolo torquato amodeo determina la trinità del 113 presente nel 114 ora dentro questo amodeo che è am o deo è am il dio ai em oppure ciò che viene ab deo cum deo perché si tratta della lingua di un romano tanto che deo è il dativo di deus e anche l'ablativo di deus e viene ab r amo proprio nel capostipite abramo ecco ora leggiamo che cosa ho scritto di rilievo nel riquadro che è nella lettera evidenziato in celeste le 11 straordinarie divine maledizioni di un dio di bene sono finalizzate tutte al bene secondo una incredibile via maledicente che dovrebbe indurre come minimo il sospetto di ogni anima pura che in alcun modo riesce a vedere il male nelle indicazioni divine ma questo 180 è nel segno della croce per 10 che è la croce della divina salvezza croce data al figlio di dio come ben sapete e a se stesso nel 26 7 del 2016 come ancora non sapete per non averlo visto ancora esistere ma è descritto esistente tutto tra la croce del 18 e quella divina del 180 che si riferisce ai nomi in questione che sono tutti questi di questa scala che è come la sezione aurea di dio nel amen ossia nel name nome 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 per 11 volte l'amen che significa sia significa anche sia questo il nome sia conosciuto il nome ora vediamo che cosa c'è ancora da rilevare nel riquadro giallo queste maledizioni date da dio a se stesso vanno oltre il corano che è un libro unico che ha 114 capitoli in tutto è dunque un libro che non va oltre il capitolo 27 del libro 3 di bibbia alla infatti dio di totale autorità non precisa il terribile castigo dato agli infedeli dato e effettuato attraverso il sacrificio che dio dà a se stesso assunto in padre figlio e spirito santo il corano che è tutto impostato sull'autorità di dio non presenta un dio che si sacrifica nella sua persona ma lo dice nel primo versetto il nome di dio il compassionevole il misericordioso che per compassione assume su di sé il peccato e maledice se stesso pur di non maledire nessun altro e quindi vedete che queste maledizioni sono proprio per la maledizione della croce ma anche di un'altra croce perché come vi ho fatto vedere in copertina questo che è il libro 1 come bibbia nel 180 e dunque è 1,18 presenta in questo 1,18 a livello 100 il 118 cui se si aggiunge la trinità di dio nel principio 1000 ossia 3000 diventa il 3,18 in cui è previsto il momento finale e definitivo dell'esistenza di questa generazione terrestre perché la terra che si ribalterà è l'asse terrestre che sarà costretto a ribaltarsi e con esso tutta la terra genererà un movimento terribile in tutto quello che esiste sulla terra la crosta si spaccherà le placche dei continenti torneranno a unificarsi nella pangea e la terra sarà invasa da un gelo terribile alla fine di tutto questo movimento e ricominceranno altri tempi ma prima di arrivare a una terra calda come ora noi dovremmo aspettare centinaia di milioni di anni e allora dio abbandona forse l'uomo non lo abbandona perché sta donando all'uomo l'energia pulita della fusione atomica quando l'uomo salverà se stesso in quel giorno attraverso un anello costruito intorno alla terra in cui in questa arca di noè andrà il seme di tutta la vita poi potrà scendere su una terra che sarà tutta gelo ma grazie all'energia del sole portato sulla terra come anticipatovi nel miracolo del sole visto a fatima ecco la terra sarà scaldata in modo artificiale dal sole della fusione atomica donato all'uomo e portato sulla terra in modo da scaldarla e attraverso ciò rendere possibile di nuovo una vita su una terra comunque che sarà un mondo nuovo in un tempo tutto nuovo ecco in questo sviluppo dal 18 che è Genesi 18 in cui esiste proprio un segno che precisa una cosa importante accaduta in questo capitolo perché in Genesi 18 che cosa si racconta in Genesi 18 c'è la misteriosa visita di tre uomini che arrivano per vedere se sulla terra le cose vanno bene o no perché se a Sodoma e Gomorra è veramente esistente quella perversione che si racconta saranno incenerite ecco i tre che arrivano sono i tre sei di un dio che è io sono colui che sono ma quando gli dai del tu gli devi dire tu sei colui che sei in modo trino dunque sei 18 e questa opera del trio di sei si presenta in Genesi 18 in Genesi 38 c'è proprio la descrizione dell'avvento di Gesù ma in Genesi 48 c'è la benedizione che viene data da Giacobbe ai due figli di quel Giuseppe che non è il diretto antenato di Gesù ma che raffigura proprio il padre di una coppia divina che è la coppia divina nella sacra famiglia di Giuseppe e Maria e presenta il figlio Gesù a questo allude proprio come attributo dato a Giuseppe invece il padre vero da cui scende Gesù non è Giuseppe realmente è Giuda è il quarto figlio non è il figlio numero undici il figlio numero undici è quello che rappresenta praticamente per assunzione tutta questa storia qui degli undici che sono proprio questi undici che qui sono maledetti ma non sono maledetti gli uomini è maledetto chi rappresenta Dio perché è Dio che si assume tutto il peccato è in questo che è il massimo terribile castigo dato a ogni malfattore il quale quando saprà che per le sue malefatte non ha pagato lui ma ha pagato Dio un innocente che non è colpevole altro che di amarlo avrà tanto rimorso e tanta vera mortificazione che sarà una mortificazione un castigo che ti rende casto che ti salva e non crea a te nessun castigo perché il castigo vero se lo è assunto tutto quanto Dio eccolo questo terribile castigo che non è descritto nel libro del Corano non è descritto semplicemente perché il Corano si ferma al capitolo 114 che nel 114 di Bibbia rivela proprio un altro fondamento che abbiamo visto in un altro video comunque in quel capitolo 114 c'è la legge una legge che sembra una legge dell'occhio per occhio ma è una legge di salvezza perché racconta come ogni cosa ritornerà su se stessa a parti rovesciate e sarà annullata e in questo modo Dio porterà a salvezza ogni cosa è la legge di